PAM 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 Napoli è un teatro a cielo aperto. Secondo te perché Napoli è un teatro a cielo aperto? Ma perché Napoli è fantasia, allegria, questo modo di vivere ci contraddistingue. È una cosa meravigliosa perché Napoli è la città più teatrale del mondo e il vero teatro è stato fatto qui. Quindi un po' per tutte le strade possiamo ritrovare scene di teatro, insomma, è abbastanza conosciuta. Ah, mi devi perdonare, è arrivato il mio relatore. Professore, la stavo aspettando, la aspetto qui, sono ferma. La strada in realtà cosa? Cioè che la strada è un bandolo di una matassa. A Ruscio nasce gente che senza concerto scende per strada e sapere città. Persone, turisti che si fermano per quei 4-5 secondi e dicono cosa sta succedendo. So che hai una passione per te naviga, quindi se ti dico fratello fatti a coricare... Fratello ricordati che devi morire. I tuoi riferimenti teatrali più importanti? Ce ne stanno tanti, sicuramente io che faccio i presevi, Natale in casa Cupiello, no? Quindi se ti dico, se ti dico, fa freddo fuori... Guari, fa freddo. Il rapporto col teatro è eccezionale. Io sono uno che va pochissimo al cinema e amo il teatro. Infatti ho abbonamento per te teatri cittadini. Io e altri giovani andiamo molto spesso in teatro, ho seguito diverse opere a San Carlo, ci sono anche molte offerte per i giovani. Mi piace andare a teatro, devo dire la verità, mi farebbe piacere magari che anche fosse più diffuso in generale. Secondo te il fatto che ci sia una fondazione, addirittura, che promuove il teatro in una città come Napoli... Penso che sia una cosa che deve essere protetta, come tutte le cose. E vive il Napoli da potenza. Assolutamente. Lunga vita. Lunga vita. Che bell'incontro. Amo il teatro e vive il teatro.